Il calmo primo, il giusto, l'uomo veramente felice, beato l'uomo che non camminò nel consiglio degli empi, e nella via dei peccatori non ristette, e nel consesso dei beffardi non sassise, ma nella legge del Signore e il suo diletto, e in essa medita giorno e notte. Perciò sarà come un albero che sul rivi di acqua è piantato, che dà i suoi frutti ad ogni stagione, le cui foglie già mai appassiscono, in ogni cosa che fa ha sempre successo. Non così gli empi, essi al contrario saranno come pula che il vento sospinge, per questo non entreranno gli empi nel giudizio, nei peccatori, nell'assemblea dei giusti, poiché il Signore conosce la via dei giusti, mentre la via degli empi andrà in rovina.